Bruno Alfieri di Profiltubi, qual è l'attuale situazione del mercato dei tubi in Italia e quali sono le prospettive per il prossimo anno? Allora l'attuale situazione possiamo dire che gli ultimi mesi c'è stato un recupero dei volumi partendo giugno, luglio, settembre e anche ottobre, recupero dei volumi che ha voluto dire anche recupera sui prezzi perlomeno fino a settembre, un leggero indebolimento c'è stato a ottobre, però dobbiamo dire anche una cosa, il panorama dei COIS sta positivamente cambiando, offerte da paesi terzi sono scomparse o sono rientrate, c'è un recupero effettivo sulla materia prima dai 30 ai 40 euro alla tonnellata minimo, il che fa sperare che se i produttori usano il buon senso le quotazioni che al momento sono debole e in ogni caso non soddisfano la remunerazione dovranno avere un recupero di almeno due o tre punti. Aggiungersi anche che la produzione ha attuato, nei mesi scorsi sta attuando comunque riduzioni di quantità di produzione e di capacità produttive e questo quindi io dire non la vedo in modo, cioè diciamo siamo usciti dalla crisi, no assolutamente, comunque un po' più tranquilli, un aspetto da tenere conto e che ci può rasserenare è che tutto sommato la domanda estera, la domanda nel nord Europa è più forte della domanda italiana e questo è un elemento di tranquillità. Stiamo tutti molto attenti alla solvibilità dei clienti però poiché la più parte dei nostri clienti è commercio, il commercio è quello che erano le mele marce in ogni caso sono già cadute. Quindi ulteriormente cosa dire? È chiaro che se il 2009 ormai è finito bisogna lavorare per il 2010 e il 2010 per tutti inizia l'11 gennaio e quindi bisogna cambiare strategia. non sarà importante, cioè bisogna che pensiamo che non è importante, sì dobbiamo produrre perché i volumi sono importanti e dobbiamo vendere perché i volumi sono ugualmente necessari, ma farsi una domanda fondamentale, sì quanto vendiamo ma soprattutto a quanto vendiamo? fondamentale, sì quanto vendiamo? fondamentale, sì quanto vendiamo? Grazie.